Come stai? Come dici? Come sempre? Come sempre, come mi devi dire. Oggi pomeriggio a Montecitorio è venuta a trovarmi la mamma di Ilaria Alpi, la signora Luciana, insieme a alcuni rappresentanti dell'Associazione per il premio Ilaria Alpi. Abbiamo parlato del prossimo 20 marzo, perché saranno 20 anni che Ilaria e il suo operatore sono stati uccisi a Mogadiscio. Abbiamo pensato di fare qualcosa in onore di Ilaria, anche perché ancora su questa vicenda non è stata fatta piena chiarezza. Quindi organizzeremo qui alla Camera un incontro e vorremmo anche farlo con tutti gli amici di Ilaria, con i suoi colleghi, con le persone che lei conosceva, con la sua famiglia. Sarà l'occasione per ricordare una giornalista coraggiosa, piena di passione, che faceva questo lavoro veramente con l'anima e sarà anche occasione per manifestare tutto il nostro sostegno alla famiglia di Ilaria, che ancora oggi aspetta di avere delle risposte.